Sotto sopra, strumenti per ripensare il presente e ricostruire il futuro, è un ciclo di seminari organizzato con l'obiettivo di analizzare con approcci critici tematiche che ci riguardano nella vita di tutti i giorni. Si parlerà infatti di Europa, di mercato del lavoro, di immigrazione, di sostenibilità ambientale e di tematiche di geopolitica. I seminari vedranno la partecipazione di esperti ricercatori italiani e il progetto è interamente organizzato e finanziato dal basso. Proprio per questo motivo abbiamo bisogno dell'aiuto e del supporto di tutti voi. Come potrete fare? Potrete, se siete interessati al progetto, effettuare donazioni che vanno dai 5 euro in su utilizzando la piattaforma di crowdfunding www.produzionidalbasso.com selezionando il progetto sotto sopra. Se deciderete di contribuire con una donazione potrete accedere a tutti i contenuti audio-video che verranno prodotti al termine di ogni seminario e potrete avere diritto ad uno sconto sulla partecipazione ai seminari stessi. Inoltre, se deciderete di diventare sostenitori, con donazioni che vanno dai 50 euro in su, potrete partecipare gratuitamente all'intera durata del corso. Ogni donazione, anche la più piccola, sarà importante e fondamentale alla realizzazione del nostro progetto. Grazie a tutti e vi invitiamo a rimanere aggiornati tramite la pagina Facebook dell'evento e il sito del progetto sotto sopra.